Buongiorno a tutti, sono Margherita, Customer Success Specialist per FieldView in Italia. Ma come sono arrivata in FieldView? Dopo gli studi di agraria ho lavorato come agronomo e ho avuto la possibilità di seguire da vicino alcune aziende agricole durante le loro attività. Ed è qui che mi sono resa conto di quanto l'agricoltura digitale fosse importante. Nonostante le aziende fossero diverse fra di loro, per cultura, conduzione e area geografica, in ognuna di loro il supporto degli strumenti digitali e l'analisi dei dati, specialmente dei raccolti, erano fondamentali per prendere decisioni migliori per ogni azienda, in base alle loro possibilità e alle necessità. Al giorno d'oggi dobbiamo fronteggiare sempre per sfide. Ed è proprio FieldView che, grazie all'analisi dei dati, ci permette di decidere come usare gli input in modo intelligente e ottenere il massimo dai nostri appezzamenti senza sprechi. Perché FieldView non permette solo la raccolta dei dati, ma anche la loro analisi. Dà un valore a questi dati e li rende facilmente accessibili a tutti. La mia giornata è svolta a supportare i clienti e a far sì che abbiano il miglior servizio possibile, sia dal punto di vista della qualità dei dati, sia da quello gestionale. In agricoltura non esiste una giornata tipo e il mio lavoro deve essere flessibile per adattarsi alle esigenze dei nostri clienti. Mi piace che attraverso il mio lavoro, attraverso FieldView, posso aiutarli nel prendere le decisioni migliori. Grazie a tutti.